Tony Miraglia Tony, da dove vieni? Cefalu Cefalu, anni? 38 38 anni, ci canti cosa? Se bruciasse la città Se bruciasse la città di Massimo Ranieri A voi, Tony Il cuore mio non dorme mai So, chiedi un altro adesso Sei tua madre, va dicendo che A maggio un uomo sposerai Ma se infonde il cuore mio C'è un ragazzo, sono io Ma chi l'ha detto? Ma perché? Non devo più pensare a te Nessuno sa chi sono io Ma il primo bacio è stato mio Infazzisco senza te E ogni notte ti rivedo accanto a me Se bruciasse la città Da te, da te, da te Io correrei Anche il cuore dovrei vincere Per rivedere te Per rivedere te Se bruciasse la città Lo so, lo so Tu cercheresti me Anche dopo il nostro addio L'amore è solo io Io per te Per te Il cuore mio non dorme mai Per inventarti accanto a me Non brucia mai questa città C'è ancora un uomo C'è ancora un uomo insieme a te Ma se infonde il cuore tuo C'è un ragazzo, sono io Quel prato di periferia Ti ha vista tante volte Mia È troppo tempo che non sa Dove è la mia felicità Infazzisco senza me E ogni notte ti rivedo accanto a me Se bruciasse la città Da te, da te, da te Io correrei Anche il fuoco vincerei Per rivedere te Se bruciasse la città Lo so, lo so Tu cercheresti me Anche dopo il nostro addio L'amore è solo io Per te La città Se bruciasse la città È dura, è dura Giulia, è dura Allora, signori giurati Come vi pare questi primi sedici concorrenti? Come sono? Anche Vincenzo già Vincenzo ormai ha padronanza Con il microfono Volevo sottolineare Per una questione cortesia Che il presidente della giuria È la signorina qua Con noi La signora con noi Signora, signora Con questa cortesia Poi per il resto Ci stiamo anche divertendo Questa Mi fa piacere Mi sembra di tutto Il contesto della gara Mi sorprende il fatto Che molti scelgano Diciamo dei brani Mi aspettavo Più odierni Il rispetto Ma questo Mi fa piacere Il classico Il classico C'è anche amore Per le cose passate Questo è già Un qualcosa di possibile Bene Ragazzi Abbiamo visto Ci sono le voci Le rivelazioni Bella voce Bella voce Bella voce Bella voce Signora Davola Vole a dire qualcosa? No Niente Ragazzi Io Siamo nel vivo della gara Io devo fare un applauso Ai giurati Al lavoro che stiamo svolgendo Veramente Sono davvero Bravi 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 Allora andiamo avanti Concorrente numero 17 La mamma è LAUGHTER Ciao andiamo Grazie